Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati su American Coffee in questa strepitosa giornata di sole. Sono a Yokosuka, nella peninsula di Miura, all'incirca a un'ora da Tokyo ragazzi. E penso che voi non sappiate che nella baia di Tokyo esiste un'isla completamente disabitata. E oggi andremo alla scoperta di questo posto magnifico che si chiama Sarushima. Andiamo! Non ci crederete mai, ma oggi è veramente il 13 di novembre, quest'anno è il tempo, è pazzesco! Ragazzi, il 13 di novembre e ci sono 16-18 gradi durante il giorno, è incredibile! Guardate come sono vestita in pieno novembre, è una giornata perfetta per visitare quest'isola deserta! Guardate che splendore il Monte Fugì, lo vedete? È un magnifico pulitissimo oggi! Questi ragazzi sono i momenti dove vorrei avere una bellissima macchina fotografica, perché davvero è una cosa magnifica, ma dalla camera fa schifo, ma oggi si vede, sta diventando un po' più affoscato rispetto a stamattina, c'è un po' più di foschia. Allora, quando ho preso il treno, allora, vi spiego ragazzi, tutto lì c'è l'Opocama, ma vedete Tokyo è più là, quindi nel venire in giù il treno va lungo la costa e si riesce a vedere il Monte Fugì e stamattina era molto molto più limpido mentre andavo sul treno, adesso si vede già un po' meno, sta diventando molto nuvolosa. Ma guardate che splendore è questa piccola isola! Non se la vedete, ma la sabbia è scintillante, non ne so veramente il motivo ragazzi, brilla e luccica, la vedete adesso? Guardate il sole come brilla la sabbia, è incredibile! Wow, è magnifico! Guardate, ve la faccio vedere di nuovo, luccica! Wow, guardate quante conchiglie! Guardate, ce ne sono tantissimi pezzettini! Guardate, guardate, guardate! Wow! Come vedete c'è la gente che appunto fa i barbecue e c'è la gente che pesca con la canna. So, potete noleggiare i barbecue, le sedie, i tavoli e l'ombrellone, tutto venendo qua a Sarishima. So, logicamente nella stagione alta è consigliabile prenotarli perché c'è un lumido limitato appunto di barbecue e altre cose. Se invece volete, potete portare la vostra tenda o il vostro telo da mettere giù, quindi non dovete per forza pagare le sedie e il tavolo. Ma la cosa interessante è che se volete fare il barbecue potete solamente noleggiare il barbecue e semplicemente sedervi in terra con i teli se preferite o non leggere semplicemente un tavolo. Quindi tutto questo è il servizio, si trova qui sull'isola, potete trovare tutte le info online, sono solo quasi in giapponese ma è abbastanza facile penso da navigare come cosa. E niente, semplicemente la gente viene qui e può fare il barbecue e oggi è la giornata perfetta, guardate com'è sereno il cielo, incredibile ragazzi. Una giornata magnifica. So, a Sarishima non c'è solo la spiaggia, questo è il primo stop quando arrivate. Ah, logicamente c'è anche un ristorante con il cibo e l'info center quando arrivate, i bagni, quindi c'è tutto. So, perché quest'isola è disabitata e dite c'è un sacco di gente, ci sono i bagni, c'è il ristorante, perché essenzialmente nessuno resta sull'isola la sera, tutte le sere tutta la gente va completamente via, quindi non ci sono case, non ci sono abitazioni, non c'è nessuno che vive sull'isola. Quindi tutte le sere, tutti quelli che lavorano vanno via e ritornano al mattino, quindi l'isola è completamente deserta ogni notte. Sono solo tipo un minuto entrata nell'isola, ragazzi guardate che meraviglia! Le foglie stanno cambiando colore col sole, è bellissimo! So, quest'isola logicamente ha un sacco di storie, un sacco di passato, ci sono tanti reparti di varie aree e appunto nel periodo Meiji, che è appunto quello che va dalla metà del 1800 fino a poi la seconda guerra mondiale, è appunto dove c'era una fortezza appunto sull'isola, quindi era un punto di strategia e c'era appunto il punto di difesa appunto per il porto di Yokohama, quindi ci sono tante strutture rimanenti sull'isola appunto che possiamo visitare oggi. Guardate che grandi queste felici ragazzi, guardatele! Sono ovunque questi muri, guardate che bello questo posto! Grazie a tutti! Ragazzi sono contentissima, sono un sacco di anni che volevo venire qui e questo posto è veramente strepitoso, ve lo consiglio altamente, è un'esperienza molto molto particolare, veramente molto molto interessante ragazzi! Questo posto è ventoso, è freddo, adesso vi do un po' della geografia di dove sono per spiegarvi un po' cosa vediamo. Questo dietro di me è la Baia di Tokyo ragazzi, come vedete è grandissima! Allora, lì c'è Yokosuka da dove sono arrivata, questa è Yokohama, quindi questa è la prefettura di Kanagawa ragazzi, non si può vedere da qui ma lì di fronte a me c'è appunto Tokyo, quello è la prefettura di Tokyo e invece qua sulla mia desca c'è la prefettura di Shiba, questo punto qua è il punto più vicino alla prefettura di Kanagawa e si chiama Futsu ed è appunto una punta che vedete come esce, che esce appunto nella Baia e c'è un osservatorio lì dove voglio proprio andare ma dove non sono mai stata e invece l'altra volta che siamo passati a Noko-giriyama è nascosto qua dietro. Una cosa che dovete sapere del Giappone, c'è sempre gente, guardate, 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 benvenuti a Tokyo ragazzi, c'è gente, o comunque, come se fosse qua, 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 qua. Era un puzzle, quindi prima non ci fosse nessuno! Ci sono un po' di cosplayer in giro ragazzi che fanno i servizi fotografici molto molto interessante, è un posto in verità molto molto carino per i servizi fotografici, quindi oggi ho visto tre cosplayer fino adesso che appunto vengono qua con i fotografi appunto per il servizio. Eccolo lì l'isola dove siamo appena stati ragazzi, sono ritornata appunto a Yokosuka. Non so se mi odierete per questo riflesso del sole, ma a me in realtà piace tantissimo, quindi ho deciso di fare un video così. So ragazzi, sono appunto rientrata da Sarushima. So Saru vuol dire scimmia, Saru vuol dire scimmia e in scima vuol dire isola, quindi isola delle scimmie. Ci sono le scimmie su quest'isola? No, non ci sono e non ci sono mai state. Adesso non mi ricordo esattamente perché si chiama così, ma l'avevo ricercato su internet e vi assicuro che non ci sono mai state, questa parte non la ricordo. So ragazzi, quanto mi è costato andare a Sarushima? So io vivo a Shinjuku, da Shinjuku per venire qua a Yokosuka e il mio biglietto del treno è costato 807 yen a solo andata, quindi andata e ritorno mi costerà 807 yen andata e poi ritorno. So dipende molto da dove vivete a Tokyo, per me è molto facile venire qui, prendo il treno dalla stazione vicino a me e poi cambio a Yokohama e da Yokohama prendo la KQ Line appunto per venire a Yokosuka. Questa non è la mia prima volta qui, se avete visto i miei video in passato avrete visto che sono stata qui di recente per andare poi nella prefettura di Chiba, quindi guardate il video, lo trovate sotto e in fondo. So quanto costa andare sull'isola? Una volta arrivati qua dovrete prendere un traghetto, non potete sbagliare ragazzi, c'è solo un traghetto, solo una compagnia e in totale costa 1.600 yen. 1.400 yen di traghetto andata e ritorno da Yokosuka a Sarushima e 200 yen sono di entrata dell'isola. Pagate tutto al centro informazioni quando arriverete, vedrete c'è un centro informazioni nuovo, con bagno, macchinette e tutte le info che volete e appunto potete comprare semplicemente il biglietto lì e ci sono, vi danno la cartina con gli orari dei appunto dei traghetti. Non ce ne sono molti, quindi vi consiglio di controllare online, sotto vi lascio il sito ufficiale appunto di Sarushima dove potete trovare tutte le informazioni per visitare quest'isola ragazzi. Questa è tutta l'isola ragazzi, è molto piccolina, e io ho preso il traghetto alle 12.30 e io ho preso il traghetto delle 2.45 per tornare indietro. Come vi ho detto potete noleggiare i barbecue, costa... No, la fontana fa uno show ragazzi! Andiamo a vederlo! Tra carino! Sono felicissima! Adesso mi guardo lo show ragazzi! E ragazzi lo show delle fontane è finito, la mia batteria sta morendo e al 7% il mio power bank è completamente andato, non carica più, non funziona più, ho già deciso di morire il mio power bank, quindi non ho più batterie e sono in Yokosuka, quindi questo è perché quando dovete viaggiare dovete essere assolutamente organizzati e dovete essere in grado di viaggiare ragazzi anche senza il cellulare perché il mio cellulare non ce la farà riportarmi a casa, quindi so per fortuna tutto quello che devo fare per rientrare ragazzi. Comunque grazie per avermi seguito in questa avventura sull'isola delle scimmie dove non ci sono le scimmie ragazzi, lasciatemi like, commenti, seguitemi su Instagram e Facebook American Coffee Travel e aggiungetemi su YouTube se non siete iscritti al mio canale. Ci vediamo alla prossima dal Giappone ragazzi! Caffè e cappuccini! Ciao ciao! Ciao!